Alla libreria Brivi Mondadori Bookstore di Palazzo Cuorone di Aosta è stato presentato un nuovo libro di Maria Morabito, Accordi, edito da Le Chateau Edizioni. Il romanzo, ambientato sullo sfondo di Aosta, mantiene tutte le promesse del suo genere letterario. Oltre ad una grande storia d'amore, delinea con delicatezze i sentimenti e svolti psicologici delle persone coinvolte nella narrazione. Maria Morabito, autrice del romanzo Accordi, nasce e vive ad Aosta. Il tuo romanzo d'esordio non è semplicemente una storia d'amore, ma una sottile analisi dei sentimenti e della psicologia dei personaggi. Perché Accordi? Accordi perché il protagonista di questa storia è un musicista bravissimo, molto eclettico, capace di padroneggiare perfettamente le note musicali. Non altrettanto però i suoi sentimenti. La stessa cosa accadrà agli altri personaggi di questa storia, i quali, davanti agli eventi che la vita riserverà loro, dovranno imparare ad accordare i loro cuori e ad ascoltarli. Nicola Lessi, scrittore ed editore delle edizioni Le Chateau. Quali sensazioni hai provato leggendo questo libro di Maria? Io devo essere sincero, non sono un lettore di romanzi di questo tipo, per cui l'approccio è stato un approccio da neofita, nel senso che non mi è mai capitato di leggere un romanzo d'amore, sinceramente. Però ho scoperto un mondo dove la scrittura ha un grandissimo valore, dove c'è una rappresentazione di una storia con molti particolari, con una lettura facile, che è sicuramente dedicata al tempo della vacanza, dove uno può impegnarsi in una lettura divertente e anche tranquillizzante, molto tranquilla. I romanzi d'amore sono associati normalmente ad un pubblico principalmente femminile. Anche nel libro Accordi ti rivolgi alle donne? Io credo che la lettura di questo romanzo sia per tutti, perché non è semplicemente la narrazione delle vicende amorose di questi personaggi. È anche piuttosto un'esplorazione delle loro interiorità, della loro intimità, delle loro difficoltà anche ad approcciarsi a un sentimento misterioso e magico come l'amore. Grazie.